I L S E R V I Z I O, protezione C I V I L E comunica che, visto l'avviso regionale di criticità P R ondata di calore, emesso dal C E N T R O funzionale multirischi, area meteorologica virgola ai sensi della D. . 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